imbarazzo Mirta Berlino e voglio che ci racconti se può raccontarcelo l'incontro in cui lei ha trovato una persona molto 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 potente che l'ha toccata mentre lei voleva intervistarlo quel personaggio poi è stato processato e anche assolto per cose analoghe perché Mirta non dico il nome perché è un personaggio colossale che ha avuto un grande processo lei è stata vittima anche lei però lei non lo ha denunciato cioè non dico che ha minimizzato ma ha dato la misura che assumeva un atteggiamento che non ha avuto Greta che alcune cose è giusto denunciarle ma non creando un effetto opposto per cui diventi vittima quello che ti ha aggredito perché non hai denunciato quel personaggio così importante e perché ritieni giusto che lei lo spiego ecco allora ci sono molti anni fa e ti dirò di più vittorio non solo l'ho denunciato ho raccontato questa cosa quando ho pensato di usarla per non ti dico scagionarlo ma per minimizzare il processo che gli era successo parliamo di Dominique Strauss-Kahn io vado a Davos al World Economic Forum perché lavoravo con Alan Friedman chiedo un'intervista a Strauss-Kahn lui mi dà un appuntamento in un albergo a un bar di un albergo all'epoca era normalissimo a Davos perché non so se sarei mai stati ma una località di montagna quindi ci si incontra negli alberghi arrivo a questo bar aspetto che arrivi mi arriva un fassoietto d'argento con un bigliettino dicendo lui mi aspettava nella sua suite succedeva anche questo avevo fatto la mattina prima un breakfast di lavoro con Gordon Brown succedeva che alcuni grandi personaggi avevano delle grandi stanze e facevano un'intervista in camera erano altri tempi avevamo la truppa era la Rai avevo parecchie persone con me saliamo tutti assieme busso la porta lui mi chiede di entrare prima perché voleva concordare con me l'intervista io entro lui tira fuori lo champagne ed era un po' aveva una specie di robe de chambre aveva una specie di roba tipo vestaglia rimango un po' stupita gli dico che però vado un po' di fretta volevo fare l'intervista però insomma ero gentile era un signore come dice giustamente Vittorio potentissimo volevo portare a casa l'intervista anche io lavoravo ero giovane e volevo portare a casa un'intervista che mi sembrava importantissima dopo un po' lui comincia a dire cose strane io mi alzo per andarmene mi spinge contro il muro e cerca di baciarmi gli do un gran ceffone esco dalla stanza e me ne vado perché non l'hai denunciato? rimprovera che non ho francamente ho trovato una cosa folle ridicola ero basita perché un personaggio come lui si metteva in una condizione così delirante ma non ho avuto paura gli ho dato uno schiaffo sono uscita da quella stanza l'ho raccontato al mio datore di lavoro che era Friedman e a mia madre tutti e due mi hanno detto oddio mamma mi ha detto è un maiale non lascia perdere un maiale Alan mi ha detto però avresti dovuto fare comunque l'intervista onestamente io non mi sono sentita minacciata ho ammessa ho pensato questo è un matto cretino farà una brutta fine quando molti anni dopo capita la sua per dire quanto sono poco politicamente corretta capita la storia di New York io dico a una persona che tu conosci molto bene Massimo a Klaus Davi in un'intervista non credo sia un violentatore credo sia un lumacone che fa delle cose molto stupide al punto che io che non sono un campione di box gli ho dato un ceffone e me ne sono andata dopodiché ti dico la verità Vittorio io col senno di poi ho pensato che forse se avessi fatto una denuncia che io non feci perché io non avevo nessuna voglia di passare per vittima di venire fuori come la giornalista molestata volevo venire fuori per una che faceva bene il suo lavoro e casomai faceva uno scoop e una buona intervista era questo il mio modo di pensare dopo ho pensato forse avessi fatto io qualche denuncia una denuncia molto più blanda o anche qualche altra donna forse lui non sarebbe arrivato fino al punto che è arrivato perché poi è uno che ci ha perso la carriera e tutto il resto però un'ultima cosa pensa al contrapasso contrapasso è questo esiste un punto Vittorio scusami che è l'indifferenza perché Massimo ha parlato di quel treno su quel treno c'è un dramma ma perché succede? perché i passanti se ne vanno la lasciano sola e Greta ci ha mostrato l'indifferenza non facciamo dramma ma diciamo che ci siamo stufate dell'indifferenza maschile questo serve per il parallelo però c'è una vicenda ma io voglio lavorare 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 Asia Argento denuncia e viene fuori il caso Weinstein dopodiché come ricorderai un ragazzino ha denunciato lei simmetrica cosa lei ha pagato 280 mila euro per risarcirlo è una storia ma quindi voglio dire il bilanciamento è che oggi prevale la violenza sulle donne perché è giusto perché rivendicano un passato di violenza però parte da Benigni occorre dire che è da allora che occorre dire basta che i maschi usino in quel modo il loro falso potere maschilista io adesso sto per farvi vedere un film grazie a tutti